Il calcio d'inizio, giusto il tempo di far sentire alle due squadre come si tifa qui a Roma. Primo pallone toccato. Volchiere tranquillissimo qui. Amici della Capitale, fatevi sentire! Wow, mandatemi il replay di questa parata! Ha un solo uomo da battere! Volchiere che ci arriva tranquillo! Bene qui, riconquista palla! Mamma mia, evita il gol del meno uno che è un intervento da paura! Scella qui per il portiere! Uno contro uno Pallone risuperato Ben Seiko Bella giocata Portiere tranquillissimo qui Un minuto al termine del primo tempo Può metterla Resiste il pareggio Riflessi felini questo portiere Portiere che ci arriva tranquillo Trenta secondi al termine del primo tempo Si libera con una finezza Ultimi dieci secondi dal primo tempo Cinque Quattro Tre Due Uno Squadra è al reposo dopo la prima metà di gara Risultato invidico Si decide tutto nella ripresa Non andate via Mi raccomando Si riparte Hanno trovato il vantaggio L'hanno sblocata Uno a zero Corchiere che ci arriva tranquillo Roma ci siete In alto le mani E fuori la voce Ma come è arrivato Azione manobrata Tira 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 La larga Tira La larga Tira Tira La larga Questa è una squadra! Aspettativo in testa! Aspettativo in testa! Alanna! Un minuto 10 di ADN! Dale, dale! Un minuto 10 di ADN! Hanno a disposizione 30 secondi per trovare il pareggio! Avete visto? Conservano il vantaggio grazie a questa parata! 10, 9, 8, 7, 6! Pareggiano a pochi stati dal termine! Hanno pareggiato! Vedremo se avranno la forza per vincerla da qui alla fine! Basta così! Vai, supplementari! Match che ricomincia! Guardi! Bene! Guardi! Inizia qui il match!